Alla presenza di oltre 200 delegati collegati online è stato rieletto a presidente di Conf Cooperative Campania Antonio Borea la proclamazione a Villa Fernandez a Portici, uno dei tanti beni sequestrati alla Camorra, è oggi punto di riferimento per tanti giovani. La prossimità, la territorialità, lo sviluppo di imprese che siano attenti alle persone, il welfare aziendale, la rimodulazione di quello regionale, il turismo esperenziale, la riscoperta delle radici, sono concetti che Conf Cooperative Campania metterà con più convinzione al centro della propria visione e di quelle delle imprese che fanno parte della rete. Bisogna lavorare per investire sui giovani, sulle aree interne, sulla valorizzazione dell'area metropolitana, sull'aggregazione, su quanto consentirà al movimento cooperativo di aumentare la sua reputazione e la sua forza, sia dal punto di vista imprenditoriale che relazionale. Antonio Borea, rieletto presidente ai nostri microfoni, ha poi sottolineato. Continuare a dare risposta alle nostre cooperative in modo sempre più preciso e competente. La crisi che viviamo dovuta alla pandemia ci obbliga ad essere vicino a loro, sviluppare nuova cooperazione e quindi avviare immediatamente percorsi di nuova cooperazione, sia nelle aree metropolitane che il costiere sia in quelle interne, ma soprattutto secondo me mettere in campo la nostra agenzia di sviluppo e nuovi progetti di implementazione della nostra cooperazione. La campania come tutto il mezzogiorno è ancora caratterizzata da salari bassi e scarsa competitività, con un conseguente minor benessere rispetto al centro nord e una dispersione di risorse anche umane, che continuerà secondo il rapporto Svimez fino al 2065. L'imprenditoria cooperativo in questo senso deve fare la sua parte. È importante fornire ai giovani mezzi per intercettare competenze, passioni e strumenti senza offrire loro scorciatoie e in questo un aiuto importante può arrivare anche dal mondo del credito e l'esempio della banca di credito cooperativo di Napoli guidata da Amedeo Manzo può essere fondamentale. Questo è il pensiero del presidente nazionale di Confu Cooperative, Maurizio Gardini, che poi aggiunge. Ricostruire un pezzo di economia, un'economia anche nuova che inevitabilmente sarà diversa rispetto a quella che si pensava prima grazie anche all'utilizzo delle risorse comunitarie. Più che mai arriveranno tante risorse, andranno gestite bene, con occulatezza, con una selettività dei progetti dove il territorio dovrà essere una parte molto coinvolta.